Chiusura della stagione teatrale della città di Castanoioni organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso in collaborazione con la creativa SRL di Andrea Solano che ne è direttore artistico all'insegna del divertimento con un personaggio noto del panorama del mondo dello spettacolo italiano e non solo. Mi riferisco a Francesco Paolo Antoni. Ti è con Francesco Paolo Antoni che ne ha firmato la regia e sul palcoscenico interagiranno nello spettacolo teatrale dal titolo Otello o io che porta in scena le disavventure di una compagnia teatrale prese con le prove dell'Otello, anche Stefano Sarcinelli, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia Delprete e Arduino Speranza. Il dramma shakesperiano della gelosia diventa una divertente commedia nello spettacolo. Otello o io interpretato appunto dallo stesso Paolo Antoni nelle vesti di regista e poi dallo stesso Otello Stefano Sarcinelli, Iago, Arduino Speranza, Suggeritorio, Raffaele Esposito, Cassio, Viola Forestiere, Desdemona, Felicia Delprete, Emilia la moglie di Argo a servizio di Desdemona. È uno spettacolo che con una scrittura ispirata alla commedia dell'arte, dal ritmo veloce con il meccanismo del teatro nel teatro, racconta le disavventure di una compagnia teatrale amatoriale. Tutti sempre rigorosamente in scena che nel primo atto intenta fare le prove di uno spettacolo che debuterà l'indomani sera. Il testo scelto dal regista, sicuro che le compagnie amatoriali non dovendo subire i tagli alla cultura e allo spettacolo sono l'unica risorsa per portare avanti il teatro. Un po' per allontanarsi dal classico repertorio eduardiano delle compagnie amatoriane, un po' perché vuole affrontare il tema della geolosia, sentimento che solitamente tende a rovinare i rapporti. Il primo atto dello spettacolo si sviluppa tra il tentativo di provare lo stesso, le delirante discussioni interpersonali tra i vari attori protagonisti, le discerzioni psicologiche, i rapporti. La disperazione per la notizia è che l'attore che avrebbe dovuto interpretare proprio il protagonista non verrà più. L'unica soluzione è che il regista stesso dovrà interpretare la figura di Otello senza però conoscerne la parte. Poi nel secondo atto, con il palcoscenico diviso in due, da una parte lo spettacolo in corsa e dall'altra i camerini, si assiste simultaneamente e contemporaneamente sia all'impietosa messa in scena dell'Otello che agli strambi eventi degli attori affrontati nei camerini. Il finale, oltre ad essere imprevedibile, non è un vero finale perché, e questo lasciamo tutto appunto al finale dello spettacolo. Vincenzo, allora tu ti ricordi tutto quello che dobbiamo fare? Va bene? Vogliamo ricapitolare? Allora, la musica della scena dell'uccisione, quando la devi mettere? La metto quando la devo mettere? Francesco Paolandone chiude la stagione teatrale qui al Teatro Comunale della città di Castano Ionio. Siamo insieme a Francesco e con Stefano Sarcinelli che è uno dei protagonisti di questo spettacolo. Siamo tutti protagonisti di questo spettacolo, è molto corale e quindi ognuno è protagonista, siamo tutti uno più protagonista dell'altro. Partiamo al titolo, Otello o Io? E' un calaburro, è Otello io perché a un certo punto la storia è che è una compagnia amatoriale che vuole mettere in scena Otello per parlare. Sai, Otello, è Otello. Sì, certo, è inutile. Così dicono. Così dicono, insomma, perché c'è qualcuno che non conosce la storia di Otello. E anche un gioccolatino può essere. Bravo, esatto, esatto, e soprattutto in ciò che lui decide di mettere in scena Otello ma viene a mancare il protagonista della sua compagnia e lui da regista deve necessariamente poi interpretare Otello. Non ha la memoria per il personaggio, del personaggio, quindi si affida a un suggeritore scarsissimo e da qui, insomma, una serie di inconvenienti che, insomma, danno. Diciamo che lo spettacolo è di e con Francesco Paolantoni. Sì, 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 e poi è loro anche, perché, insomma, è uno spettacolo che si affida anche alla inventiva degli attori. Stefano, è facile interagire in questo spettacolo con Francesco? Sì, è molto facile, perché Francesco Paolantoni è un valente attore, è un sopraffino autore, è un sofisticato regista, quindi consente a entrambe le posizioni artistiche un respiro tale che gli attori si affidano senza difficoltà. C'è un interesse privato in atto d'ufficio, diciamo? Io sono pagato per dire queste cose profumatamente e le dico anche con una posizione abbastanza da intellettuale, perché è giusto che... Vedi, così, così, vedi. Oddio, mi fa male la rotola, quindi quella tengo anche perché non farla carica, ma insomma ci sta tutto. E tra l'altro ho una caramella, non so se si vede, per la gola, perché non ho praticamente la voce oggi. Sotto cura praticamente. Da tempo, da tanti anni. Se io fossi medico, se io fossi medico... Ma tu sei medico, scusami. Ah sì, sì, se fossi il tuo medico curante prenderei in cura. Eh, sono d'accordo, è una cosa che ti prego di farmi sapere. Facciamoci un po' più seri, uno spettacolo che è molto divertente, ma... Ancora di più, dico io, ancora di più. Uno spettacolo, dicevo, che fa molto divertire il pubblico, ma che lo induce anche a riflettere su qualche tema di scottante attualità. Ma insomma, è un semino che gettiamo, proprio perché il regista vuole mettere in scena Otello per parlare della violenza sulle donne. Insomma, quindi mi piace l'idea che magari possa essere un pensiero che possa poi accompagnare gli spettatori. E poi anche il problema della crisi del teatro, che noi tocchiamo un po'. In questo momento è meglio fare il teatro amatoriale che il teatro da professionisti, perché troppe leggi che purtroppo penalizzano chi fa questo mestiere. Il teatro è il teatro in assoluto, per cui il teatro amatoriale invece si fa bene, senza problemi, senza responsabilità. E forse per alcuni aspetti si guadagna anche di più che fanno due o tre serate. È una forma libera, quasi anarchica, d'arte, come dovrebbe essere forse il teatro. Cioè libero e anarchico nelle scelte, nelle decisioni. E invece giustamente Francesco fa notare in maniera intelligente che le difficoltà burocratiche e la troppa asfissia di determinate caratteristiche, diciamo, legali, giuste, per carità, ma frenano moltissimo le produzioni. C'è una politica contro il teatro e la cultura, ormai sono proprio il sessore. Non volevo dire questo, ma volevo farlo intuire, ma lui giustamente l'ha ricordato. Comunque Stefano, ritornando al discorso del tema che vuole sfiorare Francesco in questo spettacolo, considerate che c'è un bollettino di guerra quotidiano sul femminicidio? Diciamo che è un messaggio importante da veicolare. Guarda, io ti ringrazio di questa domanda. Io non sono assolutamente adatto a toccare questo tema in maniera seria, per carità. Lo rispetto, e giustamente Francesco lo mette come contenuto, ma per carità è talmente serio che veramente noi lo rispettiamo come la tragedia che purtroppo è. Mi rendo conto invece da cittadino, da uomo, da padre, eccetera, eccetera, quanto questa cosa sia, siamo a livello di medioevo, quindi forse dovremmo riflettere un po' tutti su questa problematica. Dovremmo pronunciare più volte dentro di noi anche la parola pace, che spesso l'abbiamo dimenticata, la stiamo dimenticando. E mai come in questo momento ce n'è bisogno tanto di pace, non solo per questo tema, ma anche per quello che sta avvenendo nel mondo. C'è bisogno di pace e di uomini e non di caporali, come si dice. Ma sembra che si è sempre più assetati di guerra, il problema è questo, troppo, troppo, troppa voglia di potere, di guerra. Io non so se è aumentata, se è sempre stata così, ma non credo che possa diminuire questo desiderio di una certa parte dell'umanità. Per cui io sono abbastanza pessimista in questo, non credo che si possa raggiungere un giorno la pace, non ci credo. Impegnato in teatro, cinema, televisione, fatto radio, hai fatto un po' di tutto nel corso della tua carriera? Sì, esercito la mia professione. Mi piace l'idea di girivogare tra la televisione, il cinema e il teatro. Abbiamo fatto la radio, per cui credo che un attore abbia questo privilegio di divertirsi. Questa esperienza con Di Martino che sta andando avanti? È meraviglioso, lui è uno degli autori del programma, insomma ci stiamo divertendo moltissimo, siamo fieri e orgogliosi perché abbiamo delle grandi soddisfazioni e di numero e di gradimento, per cui siamo veramente contenti e poi soprattutto ci divertiamo veramente quando lo facciamo. Cosa c'è nel tuo futuro prossimo come impegno lavorativo? Guarda, oggi va in onda una serie televisiva che ho fatto per Rai Play che si chiama Il Santone 2 e poi a maggio farò parte del cast del nuovo programma di Milli Carlucci che si chiama Gli Acchiappatalenti e poi continuerà ancora Step per qualche puntata e poi insomma al Treco poi vediamo il Fazio che ci sono ancora qualche puntata e poi forse ci riposiamo un po'. Il riposo del guerriero quindi... Lo spettacolo per chiudere, lo spettacolo si chiude con l'attesa della platea perché riservi sempre qualche cosa di nuovo. Ma sai, lo spettacolo in un certo senso cambia ogni sera proprio perché è uno spettacolo che si basa proprio sul meccanismo della commedia dell'arte. La commedia dell'arte funziona così, è improvvisazione anche su un canovaccio che ormai abbiamo... Insomma, rispettiamo un copione che di base c'è, però ci divertiamo di sera in sera ad aggiungere, magari togliere qualcosa, aggiungiamo qualcosa... Insomma, veramente è un po' completamente diverso, però sì, insomma ci sono delle cose diverse di sera in sera, così ci divertiamo anche noi. E fate divertire. Grazie a Stefano Sarcinelli, grazie a Francesco Paolo Antoni. Grazie a voi ragazzi. E buon lavoro. Grazie, anche a voi, grazie. Amor, eh no, quei ragazzi hanno fatto lo spettacolo e hanno portato la scenografia. Questo spettacolo si sponda che io domani devo montare la mia scenografia. Dottor, qua ci sono i ragazzi della parrocchia. La parrocchia? La mattina fanno lo spettacolo per i bambini. I bambini? Chi si è lo spettacolo per i bambini? La parrocchia. La parrocchia. Non è mappa, la scena. Non è che è un spettacolo per i bambini. Di che si tratta? Che cos'è? O madre e cos. O madre e cos. Sindaco Passo, la stagione teatrale qui al Teatro Comunale di Cassano si chiude stasera con uno spettacolo molto divertente che vede protagonisti, il partanopeo, Francesco Paolo Antoni. Ma una stagione all'insegna del successo, viste le presenze, la partecipazione e la qualità degli spettacoli. Sì, esprimo grandissima soddisfazione e felicitazioni per il successo che ha conseguito la stagione teatrale. è sempre sold out, il teatro è stato sempre pieno, grande apprezzamento, grande gradimento della stagione stessa e questo fa sperare bene, dà soddisfazione all'amministrazione comunale perché abbiamo investito delle somme. Quando investi, e investi soprattutto in culture, c'è gradimento, allora c'è anche la soddisfazione dell'amministrazione comunale, significa che abbiamo fatto un investimento fatto bene, non abbiamo sbagliato. Oltretutto noi abbiamo affidato l'incarico della gestione teatrale alla compagnia, all'associazione, la creativa, diretta da Andrea Solano, con il collaboratore tecnico Liborio Saletti, sono due esponenti della nostra comunità, due nostri concittadini. Una collaborazione già rodata comunque che sta dando buoni frutti. Diciamo che abbiamo giocato in casa, ma è la conseguenza di una collaborazione che viene già un po' da lontano e io di questo sono particolarmente felice perché tra l'impegno mio dell'amministrazione comunale c'è quello del coinvolgimento della cittadinanza, degli imprenditori, degli operatori locali. Quindi c'è anche questo grado di soddisfazione. Poi c'è stato l'impegno corale da parte dei più soggetti dell'amministrazione comunale, in primo luogo dall'assessore Fasanella, che ha avuto da me la diretta propria a teatro. Poi dalla direttrice del teatro Elena Ferrara, del direttore tecnico del teatro, geometra Diego Falcone e anche del dottore Annicelli, che nell'ambito del comune ha l'incarico di direzione del Dipartimento Cultura Teatro, da me puntualmente assegnata. Quindi una squadra che si è data da fare per lavorare per i cittadini di Cassano e per far sì che Cassano potesse innanzitutto avere una stagione teatrale all'altezza del compito, ma si potesse fare cultura perché teatro è cultura. Non ci fermiamo qui. Ho detto già che prossimamente andremo avanti sempre con la creativa, ancora non abbiamo definito il calendario della prossima stagione. Ci sono dei contatti in corso, ci sono delle proposte che stiamo valutando, però dopo questa serata che conclude la stagione teatrale si passerà alla stagione amatoriale. E anche qui voglio ringraziare le compagnie locali perché ancora una volta hanno accettato l'appello dell'amministrazione comunale di andare avanti su questo terreno. E poi il teatro, anche nel mese di maggio o giugno, ospiterà tante iniziative, brillanti iniziative che arriccheranno ancora meglio, ancora di più, quello che è il bagaglio culturale della nostra comunità. Ovviamente abbiamo messo il teatro a disposizione anche delle scuole, saranno tante le serate, i pomeriggi in cui le scuole di Cassano si recheranno qui e faranno teatro. Sindaco, alla positività di quanto lei appena ha detto, comunque sull'altro fronte Cassano sta attraversando un momento particolare. C'è Maria di Sipari in modo particolare che è sotto attacco. Che cosa sta succedendo? Io da anni oramai sto dicendo che a Cassano si respira una cappa, una cappa che blocca ogni iniziativa, impedisce alla cittadinanza tutta di poter esprimere al meglio. Questa cappa soffoca la nostra comunità e non lo dico perché voglio farmi propaganda, ma è una constatazione. Queste cose le ho detto anche nelle istanze che contano, al di là di strumentalizzazione perché di fronte a fenomeni importanti, delicati, non c'è bisogno di fare strumentalizzazione, c'è bisogno di fare fronte comune. E chi si permette il lusso di polemizzare, strumentalizzare va messo da parte perché significa che la comunità deve lavorare insieme, collaborare insieme, anche al di là delle barriere delle appartenenze politiche e anche delle barriere delle appartenenze culturali. Bisogna stare insieme perché bisogna dire che a chi fa violenza, alla delinquenza, alla mafia, che questa comunità ha bisogno, ha voglia di respirare, ha voglia di emergere, ha voglia di andare avanti. Soprattutto vuole dare una prospettiva ai suoi figli più giovani. Ma i Reinesibari non sono soltanto questi due eventi che si sono verificati, perché se eventualmente noi ci fermiamo ai due eventi sbagliamo assai. Allora, c'è stato, partiamo dal novembre del 2022, viene incendiata la casa del papà del giornalista della Gazzetta del Sud, Domenico Marino. Nemmeno a farla apposta, combinando con questa casa, c'è la casa del sindaco, che diciamo ha danni per molte migliaia di euro. La casa è stata ristrutturata, la mia, quella in fase di ristrutturazione, è stata distrutta quella casa. Dopo un po' viene bruciata la casa di un cittadino di Acre. Il sindaco, anche in quella circostanza, ha richiamato l'attenzione, ha espresso solidarietà a quei cittadini. Poi ci sono stati gli incendi che hanno riguardato alcune macchine a Marina di Sibari. Dopodiché, durante l'estate scorsa, si è passata alla distruzione 20 ettari di pianeta, di un valore inestimabile. 20 ettari di pianeta sono stati distrutti, non perché l'incendi si è sviluppato da sola, ma perché c'è stato qualcuno che l'ha piccata. E io sto denunciando con forza, con determinazione, perché il danno, ripeto, è inestimabile. In altre parti del paese, d'Italia, anche dell'Europa, le zone, le aree sì che vengono protette, vengono valorizzate. Qui vengono distrutte per fine lucrative. Questo lo dobbiamo dire, sì, in fondo. Poi c'è stato un incendio che ha interessato due abitazioni ai laghi di Sibari. Anzi, si mette fuoco prima di un'abitazione, non va a Bonvine, poi si passa ad un'altra. Poi è stato bruciato il locale di Capalbo, del White, il Lux. E ancora i lavori non sono stati fatti, l'estate sta arrivando. Poi ci sono stati questi due locali. E la mano della criminalità organizzata, io non lo so, lo stabiliranno le forze dell'ordine. E' un clima, è una cultura del fuoco per fare il dispetto, del fuoco per far pagare il prezzo della vegliaccheria, che di questa si tratta, e dell'aviltà nei confronti di città, ne per bene, che magari chissà quale delitto hanno potuto commettere. Il delitto magari di lesa maestà. Non è possibile che tutto questo possa avvenire. Io sono fiducioso nel lavoro delle forze dell'ordine, nel lavoro della magistratura. Però una cosa ce la dobbiamo dire. Io mi aspettavo che anche rispetto a secondi genti, i commercianti ci andessi in piazza. Invece l'unica cosa che ho sentito dire è che adesso il Comune faccia la sua parte. Cioè il Comune sta già facendo la sua parte, facendo denunce, richiamando l'attenzione, diciamo, di coloro uguale, degli organi inguerenti. Non c'è bisogno di particolare sollecitazione perché stanno lavorando e stanno lavorando bene. Nel pomeriggio di oggi, io ho scritto a Sua Eccellenza, il prefetto della provincia di Cosenza, per chiedere un presidio fisto delle forze dell'ordine, da subito, per l'estate, anche per sempre, a Marenzi, per garantire ai commercianti serenità, tranquillità, per far toccare con mano la presenza dello Stato, per garantire serenità a coloro di quali sono proprietari di casa, a coloro di quali hanno scelto e sceglieranno il nostro villaggio di Marenzi, perché è bellissimo, che comunque viene percepito molto bene dai turisti, di poter trascorrere serenamente le proprie vacanze. Però bisogna, ognuno deve fare la sua parte, chissà deve parlare, perché l'omertà, il voltarsi all'altro lato, oppure polemizzare di fronte a fattori di questo genere, significa favorire coloro di quali vogliono delinguere, coloro di quali vogliono creare un clima di oppressione, coloro di quali utilizzano l'arma del fuoco per distruggire i benaltrui. Quello che è successo a Bar Martucci va anche al di là, è barbarie, perché mentre si svolgono i funerali del capofamiglia, di coloro di quali quel bar ha creato, un bar storico a Marenzi, c'è chi è andata a peccare fuoco, è una cosa che non possiamo tollerare. La stagione teatrale al Teatro Comunale di Cassano è arrivata al Capolinea, tracciamo un consuntivo con il direttore artistico Andrea Solano. È una stagione di successo, merito dello straordinario pubblico, dell'amministrazione comunale che ha investito in cultura ancora una volta, di una programmazione all'altezza, diciamo che un gioco di squadra, tutti quanti insieme abbiamo portato a casa una bella, importante e vincente stagione teatrale. Questa sera si è chiuso con Francesco Paolo Antoni, uno spettacolo molto divertente, ma che induce anche a riflettere su qualche tematica interessante. Sì, alla fine il teatro deve offrire spunti di riflessione sempre, sia attraverso la musica, sia attraverso il teatro drammatico, che attraverso la comicità. Quando si riesce attraverso la comicità, appunto, vuol dire che lo spettacolo funziona ancora di più, perché il teatro ha uno scopo sia di intrattenimento, ma uno scopo sociale, è uno scopo culturale. Quando questi tre elementi, cioè aggregare gente, divertirla e farla riflettere, tutti questi tre elementi riescono a essere uniti in un'unica serata, vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Andrea, soddisfatta l'amministrazione comunale, soddisfatta sicuramente anche la creativa che tu rappresenti, un successo per tutti? Sì, è un successo per tutti, è un successo per questa comunità, per questo luogo che da quest'anno tiene anche riconoscimento da parte della Regione Calabria, un piccolo contributo, un sostegno, ci aiuta ad andare avanti. Applauso maggiore all'assessore Fasanella e al sindaco Gianni Papasso, perché in primis loro hanno voluto fortemente questa stagione, tutta la macchina amministrativa. Il Comune ha sostenuto questa bella stagione teatrale, importante stagione teatrale, quindi il primo merito è loro. E poi vedere tanto pubblico, entusiasta, venire anche da fuori a riempire questo piccolo ma meraviglioso teatro, è una soddisfazione per tutti. Anche gli artisti si trovano benissimo qui, hanno il piacere di ritornare. Diciamo che funziona tutto, è una bella pagina che scriviamo tutti insieme. Un totalizzo tra creativa e amministrazione comunale che già viene da qualche anno e che guarda già in prospettiva? Sì, perché quest'anno per noi sarà uno stop and go, non l'ultimo spettacolo di una stagione però che già guarda alla prossima, perché avendo un contratto per due anni, la stagione in realtà è già nel cassetto, è già pronta, abbiamo lavorato per tempo, sarà ovviamente promossa nei tempi e nelle modalità che l'amministrazione comunale deciderà di attuare, però è una grande stagione anche per il prossimo anno. Bene, complimenti e buon lavoro. Eh, buon lavoro anche a te, grazie a tutti, grazie a tutti coloro i quali hanno creduto, credono e crederanno nel teatro. Bene, e dal teatro comunale di Cassano per questa stagione teatrale che si è chiusa questa sera è tutto, Mimmo Petroni vi saluta. Mimmo Petroni vi saluta. Mimmo Petroni vi saluta.